L'ascolto di questi podcast è offerto da Invitalia. Stefano Turchato, 36 anni, è vicepresidente responsabile commerciale della cooperativa sociale Riesco, di cui ha seguito la crescita e la maturazione per oltre 10 anni. Da sempre impegnato nel sociale, ha partecipato alla community The Economy of Francesco, il progetto che coinvolge giovani economisti e changemaker da tutta Italia per ripensare il modello di sviluppo globale in una logica di maggiore sostenibilità economica e sociale. Andrea Massucci, 27 anni, laureato in economia aziendale. Oggi lavora in Invitalia come business analyst e si occupa di Italia Economia Sociale. Ha dedicato la vita allo sport, indossando per 12 anni la maglia della nazionale italiana di pallavolo. Lo sport gli ha insegnato che è importante scendere in campo non solo per se stessi, ma per la squadra e per la comunità che si rappresenta. Produrre valore economico e valore sociale è qualcosa di straordinario ed è nel DNA delle imprese che costruiscono l'economia del futuro. Io sono Maurizia Cacciatori e oggi parleremo di Italia Economia Sociale. Lo sport è per eccellenza, inclusione ed abbraccio ed è nel DNA dei team vincenti. Come è stato per te? RISCO è un'impresa sociale di Padova che produce 3.000 pasti per le mense aziendali del Veneto. Siamo 110 lavoratori e ci sono 40 persone con disabilità inserite che ogni giorno lavorano in questa impresa. Il nostro sogno è che l'impresa diventi un luogo di inclusione, di opportunità e di riscatto. Quindi si entra in un luogo in cui le persone entrano con una disabilità e senza una disabilità ed escono tutti i lavoratori senza nessuna etichetta. L'impresa è un luogo dove le nostre fragilità non vengono nascoste ma diventano il collante che genera un'idea, una visione di un mondo più giusto e di una crescita sia personale sia come organizzazione. Questo modello non l'abbiamo inventato noi, è un modello che in Italia veramente è stato tra i primi al mondo a pensare a quest'idea che si diversifica da quello anglosassone in cui prima creo valore, dopo distribuisco sperando che arrivi agli ultimi e ai fragili. Il modello italiano, l'economia sociale di impresa, la cooperazione sociale invece pensa che all'interno di una stessa impresa debbano convivere sia il lato sociale che il lato del business. Andrea, cos'è Italia Economia Sociale? Ciao Maurizia, Italia Economia Sociale è un programma di agevolazioni promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia che vuole sostenere le imprese con obiettivi di utilità sociale e interesse generale. I driver tipici delle imprese a cui Italia Economia Sociale si rivolge sono la cultura umana, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale, al fine di promuovere un'imprenditorialità equa e responsabile. L'incentivo può essere utilizzato per la nascita di nuove imprese o per lo sviluppo di un'impresa già esistente. Andrea, mi spieghi meglio quali sono le imprese e le attività ammissibili? Italia Economia Sociale si rivolge alle imprese sociali operanti sul territorio nazionale in tutti i settori economici, ma che devono perseguire obiettivi che riguardano l'occupazione dei lavori di svantaggiati, l'inclusione sociale delle persone vulnerabili, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni storico-culturali, l'aumento della disponibilità di beni e servizi in una determinata comunità e in un territorio. Possono essere finanziati i progetti di impresa fino a 10 milioni di euro. Come va la scelta di questo nome? Allora, riesco, parte dal verbo riuscire, quindi riuscire non solo per le persone con disabilità a trovare un lavoro, quel lavoro che dia un reddito, che dia dignità, ma soprattutto riuscire l'organizzazione. Riesco a creare un lavoro dove il contesto riesce a impattare sulla disabilità, ovvero una persona può essere più o meno disabile a seconda del contesto che ha. Faccio l'esempio delle barriere architettoniche. Ci si trova davanti un edificio, ci sono dei gradini e c'è una rampa. Ecco, la rampa sbarriera quell'edificio. Nella stessa idea e con le stesse modalità abbiamo voluto creare un'organizzazione in cui la sbarrieratura cognitiva, se così si può chiamare, arriva grazie al lavoro dei tutor. I tutor sono delle persone che lavorano a fianco alle persone con disabilità, li inseriscono e quindi rendono possibile questo percorso, anche per loro come tutti noi, di integrazione, di inclusione nella vita e nel lavoro. Quindi la capacità anche di andare oltre, perché oltre non finisce mai. Esatto, esatto. In un mix in cui, appunto, come dicevo prima, non esiste più la persona con disabilità e la persona senza disabilità, ma siamo solo lavoratori. Andrea, quali sono le spese ammissibili per Italia Economia Sociale? Sono ammissibili tutte le spese finalizzate a realizzare insediamenti produttivi, da quelle connesse alla sede aziendale, quale acquisto, realizzazione o ristrutturazione di stabilimenti, compreso il terreno, a quelle più strettamente legate all'attività aziendale, quale acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, programmi industriali, brevetti e licenze. Sono ammissibili anche le spese relative alla formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria e le spese per consulenze specialistiche, quali le spese per ottenere certificazioni ambientali e di qualità. A proposito di aiuti e sostegni, come Invitaglia è stato al fianco vostro? Allora, Invitaglia ci ha sostenuto molto nel nostro percorso di crescita, dove per noi la crescita è generare nuove opportunità. Invitaglia ha investito e ha messo a disposizione risorse per l'acquisto della nostra sede aziendale e per l'acquisto di tante tecnologie e i macchinari importanti per la nostra attività di tutti i giorni. E questa cosa dei macchinari ritorna ancora sul discorso che dicevamo prima, ovvero il macchinario e la tecnologia. C'è un aneddoto molto bello, parto da qui, questa lavastoviglia che abbiamo inserito tra i primi macchinari acquistati, una lavastoviglia di 12 metri in linea, nuova, che lava le teglie e le pentole molto bene, curando i dettagli in maniera automatica e intelligente. Sono entrato dopo che l'avamo installata a gestirla, c'erano due miei colleghi con disabilità, Uwe e Gianluca, che erano là da soli in quel momento, e che erano orgogliosi di gestire tutta un'attività che prima magari non riuscivano da soli. Quindi di nuovo la tecnologia e i macchinari che abbiamo acquistato sono di nuovo a servizio dell'inclusione. Quindi l'apporto di Invitagli in questo senso, quindi con le risorse finanziarie che sono arrivate, sono state fondamentali per continuare a crescere e generare nuove opportunità. Ma come funzionano le agevolazioni? L'Italia Economia Sociale offre un finanziamento a tasso agevolato dello 0,5% anno, che insieme ad un finanziamento bancario copre le spese da sostenere fino all'80% del loro valore complessivo. In particolare, il finanziamento agevolato concorre per il 70% e il finanziamento bancario copre il restante 30%. Facendo un esempio, un progetto del valore di 1 milione di euro verrà finanziato fino a 800.000 euro, per 560.000 euro con un finanziamento agevolato e 240.000 euro con un finanziamento bancario. Al finanziamento agevolato è collegato anche un contributo a fondo perduto fino al 5% delle spese ammissibili e per programmi di investimento non superiori ai 3 milioni di euro. Ad oggi, le agevolazioni possono essere richieste da Imprese sociali costituite in forma di società Cooperative sociali anche non aventi qualifica di imprese sociali e relativi consorzi Società cooperative aventi qualifica di onlus A riguardo però è importante precisare che a breve, grazie ad una revisione dell'incentivo, potranno presentare domande di agevolazione Imprese sociali in qualunque forma costituite, purché iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese ed imprese culturali e creative Potranno presentare domande di agevolazione anche più imprese congiuntamente, fino a un massimo di 6 e potranno sfruttare la collaborazione di centri di trasferimento tecnologico, incubatori di impresa e Digital Innovation Hub Quali altre novità saranno introdotte dalla nuova normativa? Un'altra importante novità riguarda la quota di fondo perduto di cui le imprese possono beneficiare che passerà dal 5 al 20% delle spese ammissibili e non sarà più vincolata al valore complessivo del progetto L'effettivo importo dipenderà dalla localizzazione del programma di investimento e dall'effettiva dimensione dell'impresa E come ti ha assistito Invitaglia? Allora, con Invitaglia abbiamo costruito una vera e propria partnership, si può dire Siamo cresciuti molto come azienda in questo rapporto negli anni Per attivare questo progetto comunque serve progettualità, serve riuscire a costruire indicatori, serve costruire un business plan Bisogna ragionare per obiettivi Ecco, su tutti questi argomenti la nostra azienda è cresciuta dal punto di vista manageriale Quindi la cultura manageriale per riuscire a portare questa collaborazione avanti è stata essenziale Tanto che siamo arrivati addirittura a far nascere un altro progetto Perché questi indicatori, questo modo di lavorare per obiettivi, per progetti Ci siamo accorti che era una risorsa preziosissima anche per le aziende for profit Che sono obbligate ad assumere persone con disabilità per la legge 6899 È nato un progetto che si chiama Abile Che racchiude un po' tutto il percorso, anche questa cosa dei tutor che vi raccontavo prima Quindi delle persone che affiancano, delle persone che fanno dei monitoraggi Monitoraggi che vanno dati a terzi, nelle mani di terzi per essere verificati Tutta questa cosa ha fatto appunto generare un nuovo spin-off, si può dire Ecco, un metodo e uno spin-off E quindi grazie Invitaglia noi effettivamente siamo cresciuti Ecco, si può dire in maniera serena Fantastico! Infatti l'assistenza alle imprese che intendono accedere alle agevolazioni È per noi fondamentale nella gestione di dare economia sociale Siamo disponibili ad incontri one to one con le imprese interessate A partire da quelli informativi di descrizione dell'incentivo E dei passaggi fondamentali a presentare la domanda di agevolazione Fino ad arrivare a quelli veri e propri di accompagnamento Focalizzati sul progetto che si vuole realizzare Questa seconda parte serve ad evitare eventuali criticità In modo da consentire alle imprese di presentare domande il più possibile complete e conformi Riducendo i tempi di istruttoria e aumentando le possibilità di accoglimento Il tasso di approvazione delle iniziative presentate è passato dal 75% iniziale Fino al 90% di oggi Ma l'assistenza alle imprese non si esaurisce qui Infatti le iniziative finanziate vengono seguite anche nella fase di rendicontazione delle spese In modo da velocizzare l'erogazione delle agevolazioni Quindi se siete i protagonisti di questo nuovo modello economico O volete diventarlo? Italia Economia Sociale è lo strumento giusto Visitate il sito di Invitalia e contattate gli esperti per avvalervi della loro esperienza In bocca al lupo! Io sono estremamente curiosa, ma come si presentano le domande di finanziamento? Per poter accedere alle agevolazioni l'impresa deve prima di tutto ottenere il finanziamento bancario Per poi presentare la domanda di agevolazione compilando i format disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico Alla pagina dedicata La domanda di agevolazione deve essere filmata digitalmente ed inviata tramite PEC all'indirizzo es.imprese.mise.gov.it L'istruttore delle domande viene avviata in base all'ordine cronologico di arrivo Per valutare l'ammissibilità del programma di investimento e determinare l'ammontale delle agevolazioni La valutazione dei progetti, prima da parte della banca finanziatrice e poi da parte di Invitalia Riguarda le capacità economico-finanziarie dell'impresa L'impatto socioambientale del programma di investimento L'adeguatezza del piano di spesa volta al raggiungimento di uno o più obiettivi previsti dalla normativa Cosa significa per voi contribuire alla creazione e al consolidamento di imprese sociali? Allora, la prima risposta, la risposta più immediata che mi viene È che come qualsiasi impresa, non c'è una peculiarità dell'impresa sociale Una delle prime difficoltà e dei primi obiettivi è creare valore aggiunto È una proposta di valore per l'esterno Quindi questo è un focus che dobbiamo sempre avere nel fare impresa Ed è una grossa difficoltà Gli investimenti, come nel caso che vi raccontavo Nel caso delle nostre esperienze con Invitalia Aiutano proprio a dare nuove opportunità, nuove possibilità di creazione di valore Quindi è essenziale sempre investire Certo che l'investimento ha bisogno di risorse E avere delle risorse da un'istituzione È ben diverso da avere risorse da una qualsiasi altra realtà È un'istituzione che ha gli stessi tuoi obiettivi E crede assieme a te a certi driver, come diceva Quindi anche l'inclusione, che è una delle basi del PNRR, per dire È veramente un motore dell'economia Quindi sapere che noi siamo allineati all'istituzione E remiamo dalla stessa parte È veramente una cosa che spinge e che può aiutare a consolidare le imprese Per noi di Invitalia significa sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese Che accettano di confrontarsi sul mercato Con obiettivi prioritari di inclusione sociale e sostenibilità Il nostro testimonial ci ha dimostrato Che è possibile far crescere un'impresa in modo innovativo Anche rigorrendo alle nuove tecnologie Per migliorare il proprio business Ma soprattutto le condizioni di lavoro dei propri dipendenti Avendo al tempo stesso attenzione all'impatto ambientale Contribuire alla crescita di queste iniziative Significa per noi essere parte integrante di un cambiamento fondamentale Per il futuro del nostro paese E per me il successo è più grande Se riesco sempre a condividerlo Grazie Maurizia Si può dire che quella di Invitalia è stata proprio una grande alzata Grazie Ciao a tutti e grazie per essere stati con noi Ti è piaciuta questa puntata? Allora ascolta le precedenti Questi podcast sono offerti da Invitalia